A disgello olimpico tra le due Coree, la sorella minore del dittatore nordcoreano, Kim Jong-un, sarà presente alla delegazione delle Olimpiadi durante la cerimonia di apertura venerdì 9 febbraio. L'ufficio presidenziale sudcoreano accoglie con favore l'annuncio. Kim Jong-un, prima rappresentante della dinastia fondatrice a recarsi al sud, sarà presente insieme ad altri due funzionari di alto livello. Altre 18 persone, tra assistenti e funzionari minori, completeranno la delegazione. Grazie a tutti.